Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, è una bella giornata di sport, soprattutto per loro, perché si meritano veramente tanto, e soprattutto per i nostri amici delle cupie colorate, quindi dobbiamo arrivare. Benvenute. Siete pronti? Prontissimi, carichi. Si può dire chi vincerà o porta a vale? No, non ha interesse chi vince, lo scopo è ben altro. Vincono tutti? Assolutamente stiamo vincendo tutti, grandissimi, grazie. Allora buona partita Antonello. Grazie, grazie mille. Bellissima giornata che unisce diverse realtà di colori, ma che è un solo fine, dare il vero valore dello sport e del tifo tutti insieme dalla stessa parte, quindi grazie a tutti questi ragazzi che giocano, grazie agli organizzatori, e grazie che ha lavorato a questa giornata così intensa di valori umani e di considerazione per lo sport. Buona partita a tutti, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, io sono Presidente Giorgione, Presidente della Club, e sono felice di essere qua, a dare una mano alle punti colorate e speriamo sia una bella giornata. e vi ricordo che noi avremo la festa 789 a busto, e ho ritrovato la festa... come Ginevra, eh? Allora, come Ginevra, eh? Allora, come Ginevra, eh? facciamo un cast di colorate geni e tutto l'incasso andrà a tutti colorati e la e per e e per la non va bene, non va bene, assolutamente, non riesco a stare in questo campo con queste maglie, e dovete scusarmi, è più forte di me, questo è un stadio bellissimo, questo stadio può essere calcato sull'Italia, da mia e dalla propria. ieri a prendere la roba del mondo, vedete, per oggi però va bene, anche l'intera l'uva perchè è il fatto del di, no, via, 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 esatto, ecco il nuovo film, no, comunque Grazie, 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 importantissimo. Le punte colorate sono una situazione importantissima per il nostro territorio. Giusto così era il minimo che si poteva fare in questa partita domenica, ma se passiamo a questo punto prendo tutto quello che ci ha detto e faremo sicuramente una serata con quelli di Svevig che chiaramente ci potranno rendire e ci potrà domare finalmente il titolo. Una piena, quindi vuol dire che Busto ha risposto in massa a questo bellissimo evento e sono contento per voi, per quello che state facendo e come abbiamo detto in conferenza stampa voi date un sacco e non chiedete mai niente, quindi noi dobbiamo ringraziarvi perché anche oggi state portando questa bella giornata di sport. Grazie a tutti, grazie a tutti.